La casa della cultura di Lagundo per quattro serate trasformata in una sorta di capitale del rock o meglio del rock giovane. Alla Vereinhaus Peter Teilgüter è andata in scena l'edizione numero 5 del Rocknet Live Award 2011. Selezione per approdare all'International Live Award di Viena. Delle 24 band ammesse alle finali, la giuria di 14 esperti assieme al pubblico ha scelto i due gruppi. Il 27 marzo prossimo accederanno alle semifinali della mitica città di Franz e Sissi. La scelta è ricaduta sui Sisyphus di Vipiteno e sul gruppo gardenese dei Phantom. Bene! Come ti vuoi sentire? Senterà bene! No, è che abbiamo comunque provato a farcela e alla fine ce l'abbiamo fatta. Ma era veramente un'esperienza bellissima qui sul palco, specialmente oggi anche c'era tanta gente. Sì, a Viena è perfetto, è il più bello che ci poteva aspettare. La finalissima del Live Award di Viena è in programma per il primo maggio. E così, nella culla del balzer per antonomasia, il giorno della festa del lavoro sarà di scena. Il Rock! 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 Grazie a tutti.